Ferdinand ti voglio bene, Ferdinand sei capace, Ferdinand sei la persona migliore che c'è, Ferdinand sei una persona eccezionale, in questo momento le cose saranno difficili, ma tu sei forte e hai un'opportunità per crescere da questa problematica, sei in grado, tu lo sai che sei in grado di gestire e di crescere e di migliorare e di essere forte, di essere forte, perché tu sei forte, Ferdinand, ti voglio bene, fa un bel respiro, rilassati, tranquilla, calmati, sei forte, Ferdinand, ti voglio bene, ricordatelo, sei la persona migliore che c'è e nessuno, nessuno ti può mettere più in testa. Grazie.